certificato Isin DE000 V di Verona U di Udine 44 LH9 lo vedete su Leonardo Stellantis STM e Unicredit vediamo un prezzo che già sotto la pari una considerazione quello attuale dicevo che è forse il contesto migliore per prendere posizione sui certificati virgola se le tensioni sul comparto bancario dovessero procrastinarsi mi viene da dire che magari le autorità europee potrebbero mettere un freno anche alla corrisponsione di dividendi da parte delle banche così come è avvenuto in occasione della pandemia per evitare aumenti di capitale eccetera 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 e questo rappresenterebbe ancor più un elemento di favore per gli investitori meno per la banca mi viene da dire per la banca inteso Fontobel perché perché insomma con i dividendi costruiscono anche questi strumenti se non mancano i dividendi cavoli della banca però insomma lato investitore che è quello che mi preme di più invece può essere un'evenienza da considerare in questa fase da considerare senz'altro da considerare dividendi sappiamo sono una delle leve che usano appunto gli strutturatori per creare il certificato quindi i dividendi nell'arco temporale del prodotto che verranno staccati dai dei vari sottostanti sono in realtà appunto utilizzati dall'investito dallo strutturatore per creare per finanziare la struttura qualora dovessero appunto essere annullati bloccati i dividendi sui titoli bancari ci sarebbe ovviamente anche un effetto un repricing su quelli che sono i certificati con titoli bancari all'interno quindi più sono i dividendi meno costa la struttura meno sono i dividendi più costa la struttura quindi appunto ci sarebbe un repricing in questo caso favorevole all'investore che dovrebbe appunto magari tenere in considerazione questa eventualità vero che l'orizzonte temporale non è così ampio però insomma due anni visto il contesto attuale non è da escludere quello che hai detto appunto che possa esserci un intervento anche delle banche centrali per mettere un freno ai dividendi quindi sicuramente un'altra variabile da analizzare da tenere in considerazione prima di effettuare l'acquisto poi hai fatto vedere prima il prezzo e lo ripeto questo perché spesso l'investitore magari non non ci fa caso 19 per cento di cetola annua ma il prezzo è 97 6 19 divisa 97 6 abbiamo un rendimento anno che è un 19 virgola 4 circa quindi anche appunto magari aspettare un attimo prima di acquistarlo un momento momento migliore magari un minimo del worst off che in questo caso credo sia proprio unicredit si riesce anche a massimizzare ovviamente il il rendimento e lo stiamo vedendo proprio le caratteristiche adesso scorrendo ciclo di vita perché sono poi gli elementi importanti della valutazione che è stata fatta il 22 di marzo e una scadenza che sarà invece il 24 di marzo del 2025 possibilità già dal mese di settembre di scadere anticipatamente bisogna fare una cosa che magari non vale tanto per questo strumento ma in qualche modo per quello tedesco che io posso prendere anche il certificato poi sottostanti stanno lo stesso prezzo ma scende la volatilità il prezzo del certificato aumenta io posso chiuderlo così per un'operazione ma che non è banale esatto anche magari appunto guardare alla volatilità implicita e giocarsela un po' su quello quindi se la volatilità poi come detto tu scende io magari compro su una volatilità 30 vendo con una volatilità 24 a partita di condizioni del sottostante il certificato si apprezza un'ultima cosa Riccardo che magari ecco ci tengo a precisarlo anche questo molto spesso abbiamo chiamate di clienti che ci chiedono questa cosa non la sanno la data di scadenza che trovate sul sul sito che abbiamo fatto anche vedere prima per questo prodotto era 24 marzo ricordate sempre che nel kid riportato ma anche nel final terms l'ultimo giorno di negoziazione non è mai uguale alla data di scadenza ma è precedente in questo caso 19 marzo quindi se lo avete in portafoglio e poi volete venderlo prima della scadenza il 19 marzo è l'ultimo giorno utile lo trovate scritto nel kid e nelle condizioni definitive basta cercare appunto la parola ultimo giorno di negoziazione il 24 poi scade sulla base dei prezzi di chiusura del 24 si va a vedere se sono sopra barriera o sotto e appunto quello che sarà poi il rimborso alla data di liquidazione grazie a tutti